Il settimanale Il Ticino della Diocesi di Pavia è entrato nel 2019 nel suo 128esimo anno di vita, venne infatti fondato nel 1891 dall'allora Vescovo Agostino Riboldi. Erano gli anni in cui la Chiesa pavese voleva far sentire la sua voce all'interno della società locale, una mission che è rimasta intatta in oltre un secolo di vita. Si può dire infatti che ogni settimana il nostro sforzo sia quello di essere al fianco del nostro Vescovo per diffondere il messaggio del Vangelo tra la gente, ma anche di far sentire la nostra presenza come Chiesa all'interno della società locale a livello politico, sociale, economico e culturale.